Ciao a tutti sono Mattia, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo del Geparsee Cinerog 35. Mi è stato mandato da Geparsee per testarlo ed è un modello che mi interessava parecchio quindi sono felice che me l'abbiamo fatto provare. È un modello che va a piazzarsi in una posizione un po' strana come tipologia. Infatti è venduto come Cinewhip quindi in contrasto allo squirt di Shendrons e a modelli 3 pollici con eliche intubate ma è un 3.5 pollici che non ha le eliche intubate come vedete ma solo la protezione per le eliche. Un 6S ed ha prestazioni in volo molto molto spinte tant'è che senza la GoPro diventa un modello da freestyle particolarmente piacevole da utilizzare. Qui lo vedete con la lipo che vendono loro assieme al modello che è una 1100 mAh HV e con la mia Hero 7 Black montata sul supporto GoPro e sul supporto ovviamente di questo frame. Vi mostro al banco un po' il modello per farvi vedere i componenti che hanno scelto e soprattutto parlare un po' del confronto con le altre cose che potete acquistare per lo scopo di riprendere al chiuso in ambienti ristretti e poi vi lascio una clip del modello in volo per mostrarvi come gestisce bene il peso della GoPro Hero 7 e la clip è registrata con la Hero 7 con la stabilizzazione attiva ma non è passata sul ristedi quindi vedrete che l'orizzonte si sposta e quindi non è una stabilizzazione pesante. Questo è il mio tank di Farins Frames. Ve lo mostro perché è un po' il tipo di modello che ha fatto nascere anche i Geppar C35. Sostanzialmente i Cinewop sono nati su idea di Shandrons. Il primo è stato lo Squirt e poi tutti ne hanno fatto la loro versione e si basa sul fatto che con questo tubo l'elica aumenta di efficienza. Se fatto bene e nella maggior parte dei modelli non è fatto bene abbiamo che con eliche da 3 pollici si riesce comunque a tirar su un peso considerevole che è quello di una GoPro completa. Con il tempo si è diffusa la GoPro Naked e siamo passati in genere a modelli più piccoli magari due pollici che trasportavano la Naked che pesa una quindicina di grammi e quindi è molto più facile da portare. I Cinewop comunque rimangono una buona opzione soprattutto se volete portare una Hero 10 senza smontarla visto che è appena uscita e pochi vogliono effettivamente andare a smontarlo o rischiare di romperla e comunque è un modello che anche all'aperto si difende bene non ha problemi a gestire il vento. Il Jepar C ha preso un approccio che va ad estremizzare quello che sbagliavano i produttori di Cinewop cioè tanti Cinewop come vi ho detto non riuscivano a sfruttare bene il fatto dell'avere l'elica intubata e perciò erano sostanzialmente dei quad 3 pollici con una GoPro sopra che si muovevano con poca autorità e piuttosto lentamente. Seguendo questa idea Jepar C ha fatto un modello che è fatto per volare senza l'aumento di efficienza dei tubi e quindi per poter portare una GoPro Hero 10 o comunque una GoPro senza problemi di spinta è passata a 3.5 pollici. Vedete che rispetto a un 3 pollici con eliche intubate le dimensioni sono molto simili quindi non vi crea problemi avere questo nello zaino rispetto a questo. Per come è stato studiato il telaio questo tipo di modello è più leggero rispetto a un Cinewop normale da 3 pollici e ve lo mostro subito e visto che ormai si è diffuso molto l'utilizzo delle 6S avendo le 6S su questo modello le prestazioni sono molto spinte. Andiamo a pesare il modello e siamo a 278 grammi mentre il tank di Farins Frames ora non so se voi riuscirete a leggere la bilancia però pesa 317 grammi. Gli altri Cinewop sono più o meno su questo ordine di grandezza come peso e quindi si tratta di un modello più pesante. I Gepar C l'hanno fatto seguendo alcune trovate secondo me abbastanza intelligenti come l'utilizzo di una scheda all in one di quelle moderne che a 6S regge tranquillamente questi motori e le eliche da 3.5 pollici e utilizzando una scheda all in one il peso è ovviamente molto più contenuto. Vi lascio una foto di com'è la scheda e questa scheda quando sono nati i Cinewop non esisteva o meglio non è che non esisteva questa scheda ma non esistevano schede paragonabili come ampere erogati dall'ESC e dimensioni e quindi con l'avanzare della tecnologia finalmente abbiamo la possibilità di gestire il peso della GoPro su un modello che non ha bisogno delle ventule intubate. dal punto di vista del telaio per mantenere basso il peso il grosso del telaio è in plastica e parliamo sostanzialmente di quello che va a proteggere le eliche diversamente da come si fa in molti Cinewop che hanno almeno una piastra in carbonio e poi la stampa in tpu per il tubo. Qui abbiamo una plastica che è stampata non in 3d ma proprio da stampo supportato da un telaio in carbonio di spessore circa 3 mm che regge tutta l'elettronica e i motori quindi mantenendo bassa la vibrazione che su un telaio in sola plastica di queste dimensioni non sarebbe gestibile per questo tipo di motori. La cosa interessante però di questo modello più che il fatto che vada a sostituire i Cinewop da 3 pollici è che togliendo la GoPro il quad è effettivamente un quad 3 pollici e mezzo 6s quindi con ottime prestazioni. Per questo è un modello che ha molto senso perché possiamo acquistarlo sia per fare le riprese come un Cinewop ma anche per volarci in giardino come faccio io come allenamento per il freestyle sapendo che in giardino non andate a fare danni perché avete la protezione per le eliche e comunque prestazioni dignitose. Avendo poi la Caddx Nebula Pro in questo modello quindi una cam digitale il video che si riesce a registrare volando con la sola Caddx Nebula Pro è già qualcosa di condivisibile a livello di social e apprezzabile da vedere. Quindi abbiamo nominato la FC qui vedete il manuale che è incluso ovviamente con il quad e è una F722 con ESC da 35 ampere. Poi abbiamo i motori che sono dei 20-04-1750 kV che sembrerebbero bassi per un 3 pollici e mezzo ma che probabilmente hanno fatto dei test e a me sembrano piuttosto azzeccati ovviamente volando a 6s. Comparto video invece abbiamo come dicevo la Caddx Nebula Pro con un'antenna proprietaria GepRC a stereo più lungo che vi garantisce una copertura come range molto molto soddisfacente e nient'altro. Esiste una versione analogica nel mio caso per questo tipo di modelli scelgo sempre la versione digitale perché non è un quad che utilizzerò per freestyle spinto come un 5 pollici in cui magari può interessarmi l'analogico e l'unica cosa che ho aggiunto è la ricevente Crossfire che ho saldato direttamente sull'FC seguendo le indicazioni che trovate anche in questo manuale. Qui è la pagina in cinese ma c'è anche la pagina in inglese si riesce a capire. Ovviamente ci sono anche tutti i manuali disponibili sul sito di GepRC. Come dotazione non so se questa dotazione sia riservata a chi ha ricevuto il modello in test però vi mostro accessori che potete acquistare se non altro per questo modello. Ci sono due supporti GoPro questo dovrebbe essere sempre incluso se non sbaglio ed è un supporto che va montato direttamente su questa piastra con le viti e poi c'è questo supporto che è per Hero 10 che ha il mount classico da accessori GoPro ed è il mount che sto utilizzando per montare il supporto della Hero 7. Vi faccio notare che quando io vado a muovere la GoPro si muove anche la cam del sistema DJI ed è una particolarità della serie CineLog cioè il supporto che tiene su la cam HD e la cam per l'FPV è montato su delle sospensioni. Ora vi lascio a schermo delle immagini per farvi capire come funziona. Questo è un sistema che veniva utilizzato anche parecchio tempo fa parliamo di 2016 2015 su tutti i droni praticamente e ora è stato reintrodotto qui perché vogliamo assorbire più vibrazioni possibili per poter utilizzare il video che registriamo su Real Steady senza che ci siano problemi di stabilizzazione. Questo ha reso gestibile su Real Steady anche la Hero 7 Black che solitamente dà qualche problema se si utilizza Real Steady. Oltre ai due supporti GoPro vi danno un set di eliche di ricambio che difficilmente andrete ad utilizzare perché le eliche sono protette dal telaio e si fa fatica ad andare a rompere. Cavo micro usb per programmare la FC. FC alla quale si riesce ad accedere anche senza smontare tutto perché la presa usb è in questo punto qua e si riesce ad inserire il cavo senza dover svitare la bottom plate come avviene invece in tanti cine whoop. Ora vi mostro. La usb è inserita. Poi vi danno una busta con vari accessori tra cui un cavo per andare ad alimentare una GoPro Naked, gommini di ricambio per il supporto della cam HD e della cam FPV. Questi che sono i bastoncini, i cavi, le cannucce diciamo per andare a montare una antenna della ricevente sulla coda. Quindi se avete le classiche riceventi diversity FRSky fate uscire le due code da qui e le antenne le inserite nella cannuccia. e poi strap di ricambio, chiavi esagonali, c'è la protezione per la lente della Caddx Nebula e i vari gommini da installare sia qui sopra che sotto per protezione delle piastre in carbonio. Il quad me l'hanno mandato con anche le batterie che loro consigliano e ve le mostro perché sono molto particolari. Questa è una 1100mAh 60C quindi C un po' bassi lipo hv quindi andrebbe caricata a più di 4.2 volt a cella. Vi mostro la particolarità che sta nel peso infatti. Questa lipo 6s pesa 135 grammi mai visto sinceramente una 6s da 1000mAh che pesi così poco. Tant'è che la mia preferita che è la Airline 1050mAh versione 1 ed è la mia preferita proprio perché è la più leggera. Pesa 170 grammi quindi in teoria meno mAh ma più peso. La realtà è che questa è una lipo che non ha grandissima spinta però è la lipo 6s 1000mAh più piccola e più leggera che possiate acquistare perciò va molto bene su questo modello soprattutto se lo state usando per fare delle riprese. Nel filmato che vedete alla fine in cui vi mostro come vola il modello stavo usando proprio questa lipo. Tra gli accessori c'erano anche i vari supporti per montare la ricevente e fissarla meglio. Io l'ho fissata col nastro perché era il sistema più leggero per montare la ricevente e poi la Immortal T l'ho fissata qui dietro sempre col nastro. Ovviamente ci sono sistemi più belli come quelli inchiusi ma io sono sempre per il più leggero possibile. Se vogliamo trovare un difetto comunque al modello lo troviamo proprio nel sistema di montaggio della cam HD e della cam per l'FPV. Infatti per riuscire a fare questo sistema hanno dovuto fare un supporto stampato in 3D per la cam FPV e questo supporto non è molto molto stabile. Infatti ogni volta che atterro praticamente la cam mi si sposta andando anche a muovere il cavo che collega la cam alla Air Unit che non è proprio dei più resistenti. Quindi stavo pensando di disegnare un supporto diverso che vada a fissare la cam ad un angolo che mi va bene. Per esempio questo che credo sia attorno ai 25-30 gradi per questo tipo di quad per risolvere questo che secondo me è praticamente l'unico difetto di questo modello. Come quad quindi ve lo consiglio fatta eccezione per questo piccolo difetto della cam è un quad che secondo me è stato progettato molto bene e vi ripeto va bene sia per chi cerca un quad con cui divertirsi nei parchi o in giardino perché non rischiate di fare grossi danni o far mali a persone visto che abbiamo le protezioni sulle eliche ed ha prestazioni secondo me perfette per questo tipo di ambienti ma va bene anche per chi vuole uno strumento per lavoro quindi per andare a far riprese in ambienti al chiuso o comunque in ambienti ristretti con un quad che riesca a muovere agilmente una GoPro Aero 10 o nel mio caso la 7. Considerate che l'Aero 7 più il supporto pesa più di un Aero 10 quindi il video che ora vi lascerò per mostrarvi come vuole se fosse registrato con un Aero 10 non è che avrei prestazioni di vuole inferiori e appunto perché sto usando un Aero 7 non fatevi ingannare della qualità video che non è pari a quella delle GoPro più recenti ma considerate il tipo di manovre che riesco a fare cioè come riesco a prendere quota molto facilmente e come si riesce a manovrarlo bene in ambienti ristretti come la pinetta dove l'ho provato. Vi lascio in descrizione il link per acquistarlo e il link al canale Telegram dove posterò eventuali offerte e codici sconto per questo quad e per gli altri che mi sono piaciuti o che mi piaceranno in futuro spero che questo video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti